SITIRAPORT Cari amici, City Report, città metropolitana di Milano Cinisello Balsamo, Via dei Gracchi insieme a Dermes con Paolo Rusconi Iniziamo con una nuova esplorazione Guardate già cosa ci attende Bottiglie di birra, appese, stracci Adesso entriamo Ah no, sono dei piccioni che fanno uuuuh Ho ciò qui eh Ce la fai Paolino? Mitico Attenti alle buche Et voilà, siamo entrati cari amici Adesso entriamo dentro al palazzo Come possiamo vedere, palazzo uffici Il verde lasciamo perdere Ciao 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 questi sono i cestini dell'immondizia come vedete ci sono resti di ogni cosa gli ascensori o c'è le grate c'è un cartello che dice che l'impianto è fermo dall 11 novembre 2021 e l'aria risulta essere sorvegliata da direct line andiamo a vedere se così stiamo entrando beh come potete vedere molti locali questi sono i bagni già tutti disastrati occhio alle buche ragazzi che ci sono le buche in giro questi sono i bagni si sentono gli odori non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ecco, calcoliamoci non più di un'ora perché qui sono stati tagliati i cavi in giro, guardate, tutti i cavi dei vari servizi, corrente. Qui hanno già cominciato a portar via un pezzo del... Sai che cos'è? Che quando l'ho fatto io, l'ho fatto di notte, e non mi ricordo più. Sì, sì, però è un'altra storia. Sembra quasi un altro... Ma io però sono sicuro che non sono entrato da lì, eh. Da qui sono entrato. Da qui. Aspetta, scusa. Qua si sceglie. Forse è questo qua. Questo non è che rimane chiuso? No, no, non c'è, è antipanico. Quindi qui non c'è restato. Adesso non mi ricordo se al quarto o al quinto che c'era il tizio, un paio di tizi. Questi sono i sotterranei, sacchetti, bibite, un bellissimo sgabuzzo, e il sintone. No, quello è un sgabuzzino. Qui diamo una piccola spiegazione di quello che si vede. Questo era uno dei quadri generali della corrente. Sono stato rubato tutto il rame. Come potete vedere, questo è stato rubato all'interno e è stata lasciata la guaina. Vuoi andare di là? Vado io, aspetta, vuoi andare avanti a me, però. No, questo è un altro ingresso sempre di qua. Bravo Hermes, tienila alta. Ok, niente. Questo è il reparto spedizioni e roba varie. Eh, insomma, Paolo, eh. Un altro bel capolavoro anche questo. Questo era l'archivio. Oh, c'è la macchina che era acceso. Non so come cazzo faccio le costine. Senta. Come funziona questo qua? Aspetta che non ci vedo. Guarda che fanno vedere la madonna. E' tensione. C'è la corrente. Sì, sì. E c'è ancora qualcuno che paga la bolletta, allora. Sì? Sì, sì. Guarda, Paolo. Dice linea di tensione. Arrivo linea e funziona. Non so se sentite il sibilo. Qui non è. Ah, ci sono anche degli attrezzi buttati lì. Guarda qua. Questa doveva essere la... Hanno rubato tutto in pratica. Guarda qua sotto, scusa un attimo. Voi con la luce? Sì, questi sono i cavi dell'alta tensione. Sì. Quelle cosa sono batterie? Sì, le macchina. No. No? Gruppo di continuità. Gruppo di continuità, sì. Vabbè ragazzi, usciamo che qui può essere pericoloso, cioè la corrente. Sì, sì. Allora. 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 Questo è il tubo dell'acqua che arriva sulle scale, questo è il tubo dell'acqua dell'antincendio che arriva sulle scale, no perché così lo abbagli e qua ci sono ancora tutti i rifiuti di quelli che stanno qua dentro. Guarda qua, cosa c'è qua? Guarda qua il rumore, queste sono coperchietti delle luci d'emergenza. Guarda i pezzi di marmo per tenere le porte dell'immondizia. Qua c'è qualcuno che ha tirato una linea. Possiamo salire sia internamente che esternamente. Un bello spazio grande. Una cifra di bagni c'è. Anche l'acqua va, vedo che sta uscendo. Al secondo al terzo c'è gente, se dove dico io. qua si scende, qua si sale. Sì, è proprio qua. E vai. Bene. Ci piace fare le scale. Questo è rialzato. C'era anche l'asilo qui, se non sbaglio. Questo è l'asilo, eccolo qua. Allora è piano di sopra. Vi portiamo a vedere l'asilo aziendale. Infatti senti anche che la camminata è diversa. Guarda, i bagnettini per i bambini. Hanno sfasciato tutto qua. Che te ne sembra Paolo? Schifo. Questa nuova buttataria. Atto! Onisi come, è giù? esta pat estate, non c'è risultato chero! Sì, alla propria buscareUSI Qua ci sono ancora le merendine, unigenizzate. E questo è il Palazzo Direct Line di Cinisello, assicurazioni. Questo è un posto sorvegliato? Sono finte, sono staccate. Guarda cosa c'è sotto, guarda che c'è la cacca qua addirittura, attenzione, qua sul balconcino, guarda, questa è roba umana. Che puzzo di ufficio vecchio. Vieni, vai. E qui stiamo entrando in una camera da letto, guardate. Ma è anche riscaldata, è coordinata, è pulita, c'è tutto qua. Come fa a riscaldare qua? Ci deve essere qualcosa che scalda, ragazzi. Guardate la cartigienica, gli abiti. Si sono attaccati qua, c'è la corrente. Anche qui, guarda. Seguici che c'è il restante dormitorio qua, dai. Hermes, mettiti davanti alla porta. Si? Di là? Si, il corridoio. Guardate. Andate anche di qua. Abbiamo appurato che la corrente funzione e il riscaldamento c'è perché hanno attaccato le stufette. Qui c'è ancora cibo, eh. E guarda quante scarpe qua. Una, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Sono almeno in sei qua. Ecco perché qui lo spazio è più pulito, cari amici. Anche perché qui fa caldo. Perché hanno attaccato proprio per riscaldare. Guardate, hanno anche la toilette qui, vedete? Shampoo, creme, acqua. E questa è la città metropolitana di Milano. Cinisello Balsamo, palazzo di assicurazioni. In questo caso la Direct Line. Lasciamo quest'aria del motel e andiamo avanti. Questo è il bagno che usano, guarda. Per tenere caldo il bagno che usano, vedi? Guarda. Non buttargli giù tutto. Perché qua c'è la corrente che prendono per riscaldarsi. che noi non tocchiamo, chiaramente, perché non siamo elettricisti, non vogliamo lasciarli al freddo. Qua c'hanno anche le chiavi della casetta, vedi? Interruttore generale della corrente, vedi? Vabbè, caduto. Amen. Citi Rapport. 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 Grazie a tutti.